23 luglio e otteniamo questo primo giro dell'estate fatto al mattino e in questo terzo video andremo a fare lo sterrato del musone sempre con la mia nuova che non è fsi 29 carbon team del 2015 nuova ma usata con una serie di apprevi e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricate e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche e già che ci siete condividete sui social i video che preferite se volete potete seguirmi su strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio volendo potete seguirmi anche su twitter e perché no anche su instagram vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo grazie a tutti i nostri spettatori Cambio batteria e si riparte batteria della GoPro qui con tutte le batterie che ci sono ormai non si sa di quale si parla comunque lo sviluppo metrico che da qui è sbagliato perché probabilmente non so perché non ha impostato la ruota giusta non so perché con il hierro calcolativo e sul 3210 il sviluppo metrico era circa 7 metri mentre qui se vado sul 10 mi dice 3.2 a meno che non sia un'altra cosa il fattore da moltiplicare ad esempio per la misura ruota allora potrebbe anche essere un po' di video per non spiegare adesso non mi ricordo più com'era il cavallo di calcol non 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti